Ristretto Italiano, le news dal mondo sull'Italia. Buongiorno a tutti. Oggi come ieri, direi anche più di ieri oggi, gli articoli della stampa estera che riguardano l'Italia sono tutti concentrati sui lavori del difficile recupero del relitto dello yacht del miliardario inglese Mike Lynch e ancora prima dei corpi dei passeggeri affondati insieme all'imbarcazione, tra i quali lo stesso Lynch, la sua figlia diciottenne e il presidente della Stanley Morgan. Non ci tornerò sopra comunque oggi, nonostante la mole grandissima di materiale giornalistico a disposizione, in quanto, benché si parli di una tragedia avvenuta in Italia, il nostro paese non ha responsabilità alcuna nell'accaduto, salvo nuovi particolari che dovessero emergere. E allora saremo sicuramente qui a raccontarli. Per oggi invece mi sono riservato alcuni aggiornamenti sulla politica e sull'economia e apro con la dichiarazione del governatore di Banca Italia, Panetta, il quale, come riporta Bloomberg, ha detto che l'Unione Europea e l'Italia hanno bisogno dell'immigrazione per fare crescere l'economia e l'unico modo per superare la sfida dell'invecchiamento della popolazione è migliorare la crescita e migliorare la crescita in modo duraturo. In estrema sintesi, le misure che favoriscono l'aumento di un'immigrazione legale sono una risposta razionale dal punto di vista economico. Panetta lo ha affermato davanti alla folta platea del tradizionale raduno di comunione e liberazione di Rimini e, come fa notare Bloomberg, lo ha fatto all'indomani della svolta di Forza Italia, Tajani e i figli di Berlusconi, sullo Ius Scole. E quindi lo ha fatto all'indomani di questa svolta e anche del conseguente attacco di Salvini allo stesso Tajani. Infatti la Lega rimane, come Fratelli d'Italia, la Lega soprattutto rimane profondamente contraria allo Ius Scole. E voglio ricordare, per chi seguisse solo saltuariamente la politica, che nell'annosa discussione sulla concessione della cittadinanza italiana agli immigrati, chi la propone per nascita, chi per discendenza familiare, il cosiddetto Ius Scole è quel diritto, che ancora non c'è, di concedere lo status di italiano a chi abbia frequentato per un tot di anni, al momento si parla di dieci, per chi abbia frequentato per un tot di anni, dieci anni, una scuola italiana. Alla fine delle superiori, insomma, un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri potrà ottenere automaticamente cittadinanza e passaporto, cosa che oggi non accade in Italia. E quindi, tornando a bomba, ovvero a panetta, Bloomberg ricorda anche che il governatore ha sottolineato come l'Italia sia l'anello debole dell'economia europea e che il fatto di avere una delle leggi più restrittive d'Europa sulla concessione della cittadinanza non aiuta, certo, la crescita. Sempre economia, ora politico, che dedica un articolo allo scontro frontale di Meloni con l'ultima grande casa automobilistica italiana. Il braccio di ferro è sempre quello delle pressioni sugli erei di Fiat per la produzione di un numero maggiore di auto in Italia. Dai banchi dell'opposizione, ricorda politico, Meloni fu una delle più strenue oppositrici della fusione italo-francese di Fiat Chrysler con Peugeot. L'Italia cedeva, meglio regalava, secondo Meloni, uno dei più preziosi gioielli della corona ai rivali economici di sempre. E ora che è al potere, ora che è premier in nome del patriottismo economico, Meloni è passata all'attacco facendo cambiare il nome a un Alfa Romeo prodotta in Polonia e anche facendo rimuovere il logo del tricolore sulle nuove Topolino che erano fabbricate in Nord Africa, quindi non avevano diritto all'adesivo col tricolore. E ancora sperando di ingelosire Stellantis, scrive politico, ora sta cercando di chiudere accordi con i cinesi per la fabbricazione di nuovi loro modelli in Italia. Stellantis è un nemico ideale, scrive politico, è un gruppo che ha deciso di allontanarsi dall'Italia nonostante gli importanti e sistematici sussidi ricevuti dalla Fiat nel corso di tutta la sua storia e accusarla di mancata riconoscenza e di scarso patriottismo con la Fiat torna davvero facilissimo. E ancora, dato confermato anche dai sindacati, nonostante l'impegno di Stellantis di produrre un milione di auto l'anno in Italia, la realtà ci dice che siamo ben lontani da questo obiettivo concordato con un calo della produzione del 25% rispetto al 2023. Mi sposto ora sul turismo, tema praticamente obbligato in ogni numero estivo del nostro podcast, ma rimanendo a considerazioni economiche. È dagli Emirati Arabi che Life Business scrive che gli italiani hanno speso in viaggi e turismo 5 miliardi 830 milioni di euro nello scorso mese di giugno. Si tratta di dati della BCE che certificano anche come questo genere di spesa per viaggi e turismo sia cresciuto nei portafogli degli italiani del 2,7% rispetto al 2023 e del 10% rispetto al 2022. Dalla Germania, OP Online dedica un servizio invece alle sfide che ci impone il turismo di massa nel nostro paese, mole di arrivi senza precedenti che esercitano una pressione ai limiti della sostenibilità e anche oltre su città d'arte di un'estrema fragilità, prima fra tutte Venezia. Scrive OP Online che la popolazione del luogo sta sostenendo convintamente le misure anche drastiche delle amministrazioni locale che vanno dal biglietto d'ingresso a Venezia e sulla via dell'amore delle Cinque Terre al blocco delle licenze per nuovi Airbnb a Firenze, al blocco delle licenze per nuovi ristoranti a Napoli e grande sorpresa per Bologna che da sonnacchioso capoluogo emiliano è diventata meta ambitissima per i buongustai di tutto il mondo. Giusto la settimana scorsa il New York Times ha dedicato un grande elogio alla mortadella, piena Bologna all'inverosimile di turisti al punto che il locale aeroporto Marconi è stato costretto a lavori di ampliamento per superare gli attuali disservizi. Chiudiamo con l'affaire Sinner. Ebbene sì, oggi all'estero si scrive di noi anche per la questione della nostra gloria del tennis con il doping. Sinner positivo agli steroidi anabolizzanti a marzo titola il Los Angeles Times ma evita la sospensione. Il tennista numero uno al mondo in parole povere non sapeva che la pomata che il fisioterapista gli spalmava per curare una ferita era prodotto dopante. Sospensione evitata nonostante la decisione leggo su Los Angeles Times sia ancora impugnabile e ritiro però dei premi e del denaro che ha avuto dopo la vittoria di Indiana Wales. Con questo vi saluto vi auguro una buona giornata felice di avervi ritrovato dopo la sospensione estiva vi aspetto domani. Buona giornata a tutti.